Barbara Bartolotti, palermitana, donna, moglie e madre di tre splendidi figli, vittima di un femminicidio tanto tempo fa, quando era anche incinta, presa a martellate e bruciata viva, dieci giorni di coma e 27 interventi in circa dieci anni. Barbara, cosa è accaduto nell'ormai lontano 2003? Salve, allora è accaduto che io ero una donna normalissima, con una famiglia serena, felice, già mamma di due bambini e lavoravo presso un'impresa edile qua a Palermo. Mi occupavo dei pagamenti, delle fatturazioni e condividevo l'ufficio con all'incirca 18 persone, quindi tra uomini e donne. Tra questi c'era un ragazzo più piccolo di me, io allora avevo 29 anni e lui era una persona per bene, con quell'aria intellettuale, gli occhialini, appartenente a una famiglia per bene, che si distingueva anche per la sua educazione, il suo silenzio. Non aveva mai fatto delle avanzi, non aveva mai dato neanche segni di squilibrio e un giorno mi telefonò, era un sabato, e mi chiese se potevamo vederci e io quel giorno accettai perché ho pensato che mi doveva parlare per qualcosa inerente all'ufficio, del lavoro, qualche collega. Io fra l'altro ero da sola perché approfittai di quel pomeriggio che mio padre e mio marito portarono i miei bambini al circo perché avevo saputo di aspettare un terzo bambino e volevo prendere delle scarpette o un ciuccio da mettere sotto l'albero in prossimità delle feste. Così Giuseppe mi dà appuntamento vicino casa e mi dice sali in macchina, lascia qui la tua macchina, facciamo un giro del quartiere. In quei pochi minuti abbiamo parlato del Natale, cosa si faceva, dopodiché lui subito imboccò una bratella, una statale, che costeggia l'autostrada direzione l'aeroporto Falcone Borsellino e dopo pochissimi minuti si fermò. Io ho deciso di scendere per telefonare a mio marito ma mentre davo a lui le spalle mi sono sentita un tonfo, un dolore, un colpo alla testa ma non riuscivo a capire cos'era perché comunque non mi aspettavo che lui avesse qualcosa perché non avevo visto niente e fra l'altro eravamo vicino all'autostrada dove non ci sono palazzi e quindi non ti aspetti che possa caderti qualcosa. Ho sentito di nuovo per la seconda volta un tonfo alla testa. Girandomi ho visto proprio lui con un martello quindi quello che avevo ricevuto era la prima, la seconda martellata seguiti dalla terza e dalla quarta finché il mio corpo ha iniziato a perdere sangue e mi sono subito accasciata per terra. Gli dicevo perché lo fai e lui mi diceva non ti possa avere, è meglio ucciderti. E così mentre ero per terra lui ha inveito con calci e pugni sul mio viso, sul mio colpo, sul mio addome e non contento continuava sempre a ripetere in perterrito non ti possa avere, è meglio ucciderti. finché poi dal suo giubbotto aprì, proprio se lo aprì e prese un coltello, iniziò a coltellarmi all'addome mettendo così anche fine alla vita di mio figlio. Io in quel momento ho visto un raggio di luce che proiettava su di lui e su di me. Da cristiana e da credente ho detto ok Barbara oggi tu non torni più a casa e pensavo fosse un addio. Ma in quel raggio di luce ho anche proiettato una speranza di vita. ma lui continuava a dire non ti possa avere, è meglio ucciderti. In un altro non c'era nessuno, un luogo isolato. E così non contento vedo che lui va verso la sua auto, apre il bagagliaio e viene di nuovo verso di me con un bidoncino e due giornali. Mi cosparse e ho capito subito quello che stava facendo. Infatti mi cosparge con un combustibile agricolo, mi butta su questi giornali e mi dà fuoco. E lui se ne ritorna in macchina a guardare. Io inizio a rantolarmi, a gridare perché comunque divento una torcia umana. Però ripensando a quel fascio di luce e non sentendomi da sola ho pensato che forse facendo finta di morire potevo avere una speranza di vita. E quindi mi fingo morta, rimango ferma. Queste fiamme prendono il sopravvento. Ma lui mi mette, cioè mi dà per morta. E va via. E quando io vedo che lui se ne va mi alzo e con le mie stesse mani mi spengo le fiamme. Ovviamente debilitata, barcollando. Avevo a volta non solo dal sangue ma anche da vertigini mostruose perché avevo il cranio aperto in due. E così avendo paura che lui ritornasse proprio perché su quella statale c'era il senso di marcia doppio decido di scavalcare due metri e mezzo di filo spinato dove lascio lì la mia pelle, il mio sangue e proprio brandelli di carne e mi metto a correre contro marcia in autostrada perché dico così se lui ritorna per vedere la sua opera compiuta non mi vede, non mi può prendere. Lì dico sempre il racconto che ho conosciuto l'indifferenza della gente come oggi noi siamo veramente molto molto deboli di cuore nell'aiutare gli altri. E così non si ferma nessuno ma nello stesso tempo pure mi sono resa conto anche della paura che la gente poteva provare in quell'istante perché io non si sapeva cos'ero se ero un tronco d'albero, una bestia ero tutta annerita, nuda, con la pelle a brandelli. Ad un certo punto sulla statale si fermano una ragazza che mi dicevano non facevano mai quella strada erano dei musicisti che scendevano verso Palermo solo la notte e che quel giorno furono chiamati proprio per suonare, per farle delle prove e ripeto per me da credente ho pensato che erano due angeli custodi mandati e mi hanno detto ma come ti prendiamo, chi sei? E io gli ho detto mi chiamo Barbara e come sono venuta di qua ritornerò di là. E così ho rilasciato di nuovo del mio sangue, la mia pelle su quel filo spinato mi hanno messo in macchina ho avuto la lucidità e la forza di dire il numero di cellulare di mio marito perché il mio si era sciolto in mezzo alla mia pelle in mezzo ai miei vestiti e dicevo non voglio morire aiutatemi vi prego non voglio morire. Mi hanno subito accompagnata al pronto soccorso più vicino dove lì c'è stato il carabiniere che mi ha accolto che non riusciva veramente a capire chi ero cosa fosse accaduto e ho riavvertito nuovamente quel bruciore intenso alla testa questa volta era il medico che cercava proprio di chiudere questo cranio ma hanno capito che la situazione era molto grave infatti mi hanno subito intubato ho chiamato un'ambulanza con il rianimatore e trasferita la rianimazione del civico di Palermo. Lì racconto sempre che ho vissuto quello che voi chiamate coma ho vissuto il mio al di là ho vissuto in dei prati verdi bellissimi con dei fiori insieme a dei bambini vestiti di bianco che giocavano e lì c'era l'amore la serenità evidentemente non era il momento che Barbara rimanesse lì infatti mi sono risvegliata ho detto ho voglia di vivere non sapevo dove ero come ero che fine avesse fatto il mio aggressore ma avevo tantissima voglia di vivere e da lì mi hanno trasportata al centro schioni dove sei sveglia dove dove vivi comunque il tuo dolore dove ho vissuto questi carteggiamenti perché lì ti immergono in dei bambini speciali per carteggiarti uso questo brutto termine ma per farvi capire proprio l'entità della gravità di quello che io di quello che una donna riesce anche a subire e mi strigliavano la pelle me la carteggiavano mi tagliavano i brandelli di pelle ma dico che mi hanno distrutto ma per salvarmi la vita infatti evitavano le setticemie e così ma ogni medicazione voleva dire un febbrone da cavallo un febbrone a 41 l'ustionato per deliquido anche se operata e ogni volta che ti sbendano viene via della pelle e fra l'altro le cuciture non è filo ma sono proprio la pelle viene spillata i lembi di pelle vengono spillati affinché la pelle attecchisce bene ho subito sei interventi durante i sei mesi di ospedale ma poi ne ho fatti 27 fino al 2014 fino a quando allora allora Barbara allora Barbara dopo essere riuscita a sopravvivere a questo lungo calvario e dopo tante operazioni chirurgiche sono cominciate ad arrivare anche delle belle notizie e mi riferisco in primis all'aumento dei componenti della sua famiglia nonché anche alla decisione di mettersi a disposizione di chi ne avesse bisogno creando un'associazione cosa è accaduto nel dettaglio subito dopo il periodo più blu e allora io decido fin da subito innanzitutto di lottare finisco diciamo decido subito di lottare contro contro lo Stato contro i tribunali contro la giustizia e decido di mettermi in piedi anche se avevo perso 18 kg di massa muscolare quindi ero già in carrozzina ma decido di prendere in mano nuovamente la mia vita il mio aggressore per un vicio di forma viene già scogionato lo stesso giorno e poi comunque si avvale dei reti alternativi abbreviati tutto ciò che il legislatore consente quindi lui viene condannato una pena di 21 anni che scende subito a 4 anni ma di domiciliari e poi ci fu la politica che diede l'indulto e queste forme cautelari sono decadute e lui è stato un uomo libero quindi si è fatto pochi mesi veramente e lui ha avuto il premio più più bello che è quello della vita della libertà e invece io sono sembra che sia rimasta dal 20 dicembre 2003 imprigionata nel mio corpo deturpato nelle mie ingiustizie perché non sono stata tutelata non perdo il senso della maternità e mi metto in gioco nel 2007 volendo un altro bambino e chiedo al signore visto che mi ha dato due maschi e mi hai miracolato mandami una femminuccia nasce Federica contro il parere di tutti contro i pareri dei medici ma nasce Federica una bambina bellissima perché dico bellissima perché lei rappresenta la rinascita e la continuazione della vita che dobbiamo avere tutti e nasce anche libera di vivere libera di vivere nasce perché sento che quello che mi è accaduto è da portare avanti come una missione e quindi aiutare gli altri e far sì che non accada agli altri quello che è accaduto a me quindi nasce libera di vivere che mi permette quando mi invitano di portare la mia testimonianza nelle scuole di portare la testimonianza nei comuni nelle palestre nei circoli negli ospedali nelle chiese ovunque ci sia veramente bisogno di fare delle giornate no violence per dire no alla violenza e quindi libera di vivere anche se non ha una sede perché qui a Palermo è tutto molto difficile e fa l'ambulante per l'Italia quindi mi chiamano e sono felice e orgogliosa di raggiungere tante mete infatti è da vent'anni che faccio questo quanto sono stati difficili in questi anni i rapporti con i suoi figli ma allora nascondersi fra l'altro anche da un libro che ho scritto una storia barbara che adesso vi mostro è stato difficile perché abbiamo un po' messo i miei figli in confusione la mamma va in tribunale forse un avvocato la mamma va nelle scuole forse un insegnante la mamma ha aperto un'associazione forse una psicologa e quindi decidiamo alla maggior età di dire la verità ai figli maschi ai figli maschi che hanno provato un dolore immenso ma che comunque hanno vissuto con una mamma perché quando è successo il fatto avevano 3-4 anni quindi vivono con una mamma diversa ma con una mamma che non si è mai nascosta con una mamma che si è sempre lavata spogliata massaggiata vestita davanti a loro certo una mamma che vive con questi colli alti come voi mi vedete anche d'estate perché preferisco essere additata io e mai la persona che è accanto che siano loro mio marito una mia amica perché la gente troviamo molta ignoranza ti vedo una cicatrice non capisce che dietro ci può essere un martello un coltello una benzina un dolore tante ferite no? allora va bene così quando tu non puoi metterti più un bikini non puoi metterti non puoi metterti più una minigonna un bel vestito ti dispiace da donna da moglie però poi alla fine pensi e rifletti che è più bello come tu ti senti dentro che come puoi appare fuori perché comunque sei o sono una persona che è devota all'aiuto e che pensa sempre più agli altri che a se stessa purtroppo non sono stata tutelata però che faccio dopo aver subito e dopo le martellate le coltellate il fuoco non posso avere le pretese di mettermi in un letto di casa mia e morire o prendermi degli ansiolitici nel 2011 come ha prima accennato un libro sulla sua storia cosa la spiega? ve lo mostro ho deciso di fare questo piccolo fascicolo che proprio porta il mio nome ed è proprio una storia barbara c'è la mia foto che è stata fatta dopo l'aggressione nel 2011 e riporta il logo dell'associazione che è una farfalla ho scelto proprio la farfalla perché amo le farfalle e perché comunque questa farfalla così un pochettino con le ali spiegate con le ali un po' rotte ha un doppio senso cioè che puoi rimettere sempre in sesto la tua vita oppure puoi fuggire dalle violenze io non ho avuto un preavviso ma chi ce le ha può rivolgersi alle associazioni può rivolgersi ragazzi alle scuole rimani solo quando decidi di rimanere solo oggi puoi essere aiutato è ancora possibile acquistare questo questo libro dopo più di dieci anni come si può fare eventualmente proviamo a dare le indicazioni a chi ci sta vedendo allora il libro ce l'ho io e lo distribuisco io lo spedisco io anche in contrassegno o facendo una semplice ricarica per un minimo di una donazione almeno di dieci euro che vanno proprio all'associazione per aiutare tutti coloro che si rivolgono e che magari possono avere dei problemi e quindi come associazione bisogna intervenire e quindi mi possono contattare su whatsapp poi magari metteremo il mio numero più che su whatsapp perdona mi parla più che su whatsapp hai una mail che puoi dare perché whatsapp c'è il tuo numero privato e non mi sembra giusto il numero è anche quello dell'associazione appartiene a tutta Italia da vent'anni se vuoi lo posso dire e comunque lo trovi anche sul sito intanto la mia email è barbarabartolotti chiocciolagmail.com il mio numero di cellulare è 333 13 98084 poi su scusate su facebook c'è proprio la pagina dell'associazione associazione libera di vivere di Barbara Bartolotti mi hanno inviato moltissime richieste su facebook però oltre 5.000 facebook non ne fa prendere allora ho creato proprio un gruppo che è lo stesso dove si vedono i miei eventi le mie scuole le interviste quello che faccio e si chiama il gruppo non più soli con l'associazione libera di vivere di Barbara Bartolotti l'ho individuata subito perché c'è il logo della farfalla e lì possono inserirsi anche in maniera anonima possono chiedere aiuto possono chiedere il libro possono chiedere e possono anche invitarmi e possono contattarmi in una tua intervista essendo siciliana hai dichiarato che sei più amata fuori dalla Sicilia piuttosto che nella tua regione su cosa si fonda questa affermazione? si fonda no si fonda si fonda si fonda si 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 fonda sul fatto che in Sicilia c'è anche ancora molto omertà e non si è neanche pronti a questi tipi di progetti o a delle nuove iniziative io dico sempre che se avessi avuto l'amico mafioso l'amico politico avrei avuto una sede e sicuramente non sarei stata nelle condizioni lavorative di oggi cioè disoccupata siccome abbiamo deciso di rimanere con mio marito persone per bene e fra l'altro nelle varie testimonianze non istighiamo nessuno alla vendetta credo che secondo le esperienze fatte è vero che io sono più richiesta fra virgolette uscendo dalla Sicilia a Napoli hanno c'era inferiore mi hanno adottato e voglio dire siamo stati sono stata a Gozzano Nuovarese dove proprio il comune mi sostiene anche ogni anno economicamente manda un bonus all'associazione anche nella vendita di libro comunque ci sono molti più insegnanti che cercano di fare degli eventi nelle scuole qui sembra un po' un tabù e la cosa è brutta perché oggi tutti accendiamo la tv e sentiamo cosa succede in ogni forma e in ogni parte d'Italia ogni forma di violenza quindi credo sia opportuno parlare soprattutto con i ragazzi e poi anche con le persone che vivono e con cui vivono oggi quando sente la parola femminicidio cosa scatta in lei? ma guarda sicuramente dal punto di vista di giustizia non scatta meraviglia non scatta meraviglia perché non mi meraviglio che la persona è andata a fare la denuncia e poi è morta in casa sua come quando io dico che le vittime come me che hanno fatto i primi passi e quindi abbiamo portato più risveglio ma siamo in poche il codice rosso proprio perché vogliamo attivarci su questa forma di aiuto ma il codice rosso ma siamo tutte troppo indietro perché a volte dopo 15-20 giorni il codice rosso si mette in moto o le notifiche avvengono addirittura dopo due mesi e quindi non va bene quindi non va bene non mi stupisco sicuramente mi dispiaccio come donna come essere umano come moglie come madre e anche come figlia mi piange il cuore certe volte cerco di cambiare un po' i canali perché comunque poi mi ritrovo la stessa notizia sui social e rivivo capisci rivivo quei momenti che sono atroci che sono incancellabili e quindi preferisco a volte non sentire non sapere però poi viene tutta galla alla luce di quanto accaduto qual è il tuo rapporto con la vita ma io dico che sono legata a questa vita che è veramente molto beffarda e scusami il termine anche bastarda molto difficile molto ogni giorno che ci mette alla prova con tanti tipi di problemi ma io dico sempre che io ho avuto due vite una di queste è stata un martirio e alla gente che mi ascolta dico sempre ma tu per capire che è una sola vita cosa aspetti cosa aspetti per fuggire dalla violenza oppure per guardarti bene intorno ma anche per affrontare quel tipo di malattia devi essere sempre combattiva combattivo e parlo anche con l'uomo perché ci tengo a dire che non esiste la donna perfetta sia dagli infanticidi che sentiamo sia dalle violenze perché anche le donne ne hanno ucciso sicuramente siamo diciamo a livello di percentuali siamo come aggressività in minoranza rispetto all'uomo ma non esiste la donna perfetta ci sono anche degli uomini che vengono tutelati e allora dico sì il rispetto il rispetto fa parte della vita e dell'essere umano e se tu non hai il rispetto della propria vita non potrai mai averlo per gli altri proviamo adesso ad essere propositivi quali le misure che dovrebbero essere immediatamente attuate per limitare questo mostruoso fenomeno che ormai è sempre più è sempre più diffuso ma allora sicuramente come dico come ho detto prima molte cose sono cambiate anche all'interno dei commissariati adesso la gente che ti riceve è anche a un minimo di preparazione e di accoglimento verso la vittima anche negli ospedali stessi i medici sono molto più veloci nel mettere fin da subito in protezione una persona sempre che la vittima non abbia paura e sia disposta ad essere salvata ma sicuramente il codice rosso sarebbe da approfondire e sarebbe da accelerare ecco la tempistica se la vittima si rivolge al commissariato al magistrato o comunque un ragazzo che ha bisogno anche all'interno delle scuole perché gli insegnanti rappresentano pubblici ufficiali si devono ad operare fin da subito la vittima ha il diritto di essere allontanata immediatamente dal proprio guzzino quindi dobbiamo sfatare questa cosa che poi alla fine è vera perché delle vittime delle persone mi dicono sì Barbara ok questo 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 però poi non si attiva nessuno e io mi ritrovo ancora qui mi ritrovo ancora non difesa e quindi noi dovremmo accelerare e soprattutto soprattutto noi vogliamo te lo dico da da persona umana e poi te lo dico da vittima noi vogliamo la pena certa chi sbaglia deve pagare deve rimanere dentro che sbagliare